assicurazioni per la tua auto per la tua moto per il tuo motoveicolo per il tuo triciclo assicurazioni per tutto quello che circola sulle nostre strade sono ciro muto mi occupo di finanza management e crescita personale se questi argomenti ti interessano lascia un like iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche per non perderti i prossimi video bene ho fatto un video in passato ed è venuto malissimo devo spiegarti in che modo puoi assicurare il tuo motoveicolo o la tua automobile risparmiando un sacco di quattrini il caso ha voluto che il video si registrasse male e non si sentiva per nulla la mia voce sono stato quindi costretto a ripetere questo video per cercare di darti un'informazione un tantino più precisa detto questo le assicurazioni in italia sono veramente molto gettonate perché tutti almeno nella famiglia abbiamo almeno un'automobile si stima che in alcune famiglie i mezzi da assicurare possano arrivare sino a tre verrai con me che spendere qualcosina di meno per ognuna di queste auto o moto è sicuramente molto importante tempo per assicurare il tuo autoveicolo o il tuo motoveicolo dovevi scendere e dovevi trovare l'agenzia giusta con il prezzo migliore con l'avvento della tecnologia chiaramente tutto questo è cambiato e poter richiedere un'assicurazione spesso anzi quasi sicuramente richiede meno di cinque minuti ovviamente come tutte le compagnie assicurative anche quella che sto per presentarti ha delle caratteristiche davvero particolari consigliato nel mio precedente video di non richiedere con questo partner se hai meno di 30 anni e voglio nuovamente fare la stessa premessa abbiamo tre regioni in italia che con questo partner non offrono grandi vantaggi una tra tutte e la regione campania ma per semplificarti il tutto qua sotto in descrizione te le scrivo così magari non te le dimentichi di fondamentale importanza è la questione di non richiedere il preventivo per la tua assicurazione prima di 45 giorni la scadenza della tua vecchia polizza come sicuramente ben saprai i prezzi oscillano continuamente e quindi richiedere un'assicurazione con largo anticipo non è molto consigliato bene se hai superato queste tre prove allora vuol dire che sei pronto a richiedere la tua assicurazione online il partner che voglio presentarti si chiama prima assicurazioni ed è davvero la prima è la prima ad offrire un prezzo chiaro trasparente e valido per richiedere il tuo preventivo non devi fare altro che cliccare sul link che ti lascio qua sotto in descrizione e andare ad inserire tutti i tuoi dati uno per volta molto importante è la questione di salvare il tuo preventivo all'interno della tua mail lasciandola nella fase finale del preventivo significa che non per forza devi concludere l'acquisto in maniera istantanea ma che hai la possibilità di salvare il lavoro effettuato ovvero il preventivo effettuato e di confrontarlo con la concorrenza mi è dato sapere se in un determinato periodo dell'anno questo video e questa partner possono ancora essere validi quindi il mio consiglio in tutta sincerità è quello di richiedere il preventivo con prima assicurazioni di salvarlo e di tornare quando sei pronto se il prezzo del preventivo ti sembra interessante allora procedi pure col tuo acquisto se invece la concorrenza ha qualcosa di meglio da offrirti beh che dire ci siamo fatti due chiacchiere se le informazioni contenute in questo video non ti sembrano sufficienti puoi approfondire andando sul mio sito web che trovi qua sotto in descrizione che dire queste erano tutte le informazioni utili per la richiesta della tua assicurazione online prima di salutarti voglio soltanto rinnovarti l'invito che ti ho fatto all'inizio se questo video ti è sembrato interessante e le informazioni sono state di tuo gradimento allora salva il video nei preferiti iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche io sono shiro muto questo era il mio video dedicato alla finanza ea tutti gli argomenti correlati al tema del denaro vuoi approfondire ulteriormente chi sono ti basta andare su www.shiromuto.com alla pagina chi sono bene con questo è davvero tutto io ti saluto e ti aspetto nel prossimo video ciao 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 ciao